Tre officine trasfusionali, una per aria vasta, per rispondere agli standard europei e costruire un sistema trasfusionale toscano moderno e qualificato. Lo ha annunciato questa mattina l'assessore regionale alla salute, Daniela Scaramuccia, nell'ambito della 41esima Assemblea regionale dell'Avis in corso di svolgimento a Lucca. Come tema dell'edizione 2012 è stato scelto l'associazione e partecipazione. Ma noi siamo consapevoli che i bisogni del sistema trasfusionale toscano stanno crescendo, sta crescendo la sanità della Toscana, oggi si possono erogare cure impensabili fino a pochi anni fa, sta crescendo l'età media della popolazione, tutto questo porta a maggiori necessità. Il 2011 è stato un anno positivo in generale per l'andamento delle donazioni di sangue ed emocomponenti di Avis in Toscana che complessivamente sono state quasi 120.000 con un aumento del 2,3% rispetto al 2010. Le aree geografiche che si caratterizzano per i maggiori incrementi realizzati nell'anno 2011 sono la provincia di Pistoia e quella di Massacarrara. Cresce anche il numero dei soci, 3.000 in più rispetto al 2010 e di questi la maggior parte sono giovani, di età compresa fra i 18 e 34 anni. Nell'area di Lucca Avis è presente solo da un anno, i soci sono già 240 e la fascia d'età è ancora più bassa, 18-24 anni. Presidente, i lucchesi che vogliono venire a donare, cosa devono fare? Si devono semplicemente ricaricare al centro trasfusionale con una leggera colazione se ne hanno bisogno o se no digiuni e prendere il numero, fare una visita medica, un elettrocardiogramma e compiere col sorriso la prima donazione. E per associarsi all'Avis? Basta telefonarci al numero verde oppure al nostro numero di Lucca e compilare un modulo di adesione. Dopo la prima donazione gli verrà rilasciata una tesserina con quella e registrerà tutte le sue donazioni future.